Ciao a tutti, come preannunciato nel video precedente che vi invito a riguardare qualora non l'aveste guardato nel quale vi ricordo abbiamo parlato di legge fondamentale della termologia, del calore, della definizione di calore specifico, capacità termica e infine della caloria ne riparliamo ancora oggi con, evidentemente non può non essere citata, la cosiddetta esperienza di James Prescott Joule ovvero il cosiddetto equivalente meccanico della caloria allora come ha fatto Joule a dimostrare che effettivamente ci fosse un'equivalenza tra l'energia necessaria ad aumentare, ad innalzare la temperatura di un corpo e l'energia meccanica che abbiamo già visto nei capitoli precedenti di questo lungo corso cioè in altre parole come ha fatto Joule a dimostrare che una caloria o una chilocaloria corrisponde esattamente l'abbiamo visto anche nel video precedente a 4186 Joule potete vedere nella figura dove è rappresentata il cosiddetto mullinello di Joule Joule cosa fece? Prese un calorimetro, un termos e in pratica a qualcosa, gli serviva qualcosa che andasse a isolare il calore accumulato e si servì quindi di questo dispositivo meccanico che vedete in figura vedete che a pese ci mise dei pesetti e questi nella caduta si mettevano, ponevano in rotazione l'asse con delle cosiddette, con delle palette potete vedere che per attrito vanno ovviamente a riscaldare l'acqua presente nel termos, nel calorimetro siccome vedete anche il termometro mediante questo termometro si può notare si va a vedere l'inalzamento l'aumento della temperatura quando i due pesetti posti cadono e tale aumento della temperatura ovviamente conoscendo la massa d'acqua è noto anche e chiaramente il suo calore specifico conoscendo anche quindi se c'è questo aumento quindi conosceremo la variazione di temperatura all'interno del calorimetro cosa facciamo? riusciamo proprio Joule riuscì esattamente a misurare quanto calore la quantità di calore che è riuscita a riscaldare che è riuscita a riscaldare appunto la massa la massa d'acqua facendo una sorta di valutazione meccanica dell'energia che è stata dissipata per attrito nelle pale e tale attrito non è altro ce lo ritroviamo sostanzialmente trasformato in calore e quindi questo è un esempio in cui l'attrito si converte si trasforma in calore pertanto si può ricavare proprio l'equivalente meccanico e si può scrivere proprio una relazione che c'è tra lavoro prodotto lavoro speso e quantità lavoro speso e quantità di calore prodotta all'interno di una trasformazione in una trasformazione ciclica perché chiaramente non ci sono in questo caso altre forme di energia quello che non è stato detto ma mi sembrava abbastanza evidente come il sistema costituito dall'acqua quindi il termos il calorimetro e anche poi la parte meccanica tutto quanto fosse racchiuso entro parete adiabatiche ripeto la parola adiabatica vuol dire che non ci può essere scambio di calore ora quindi quello che noi abbiamo trovato quello che Jules è riuscito a diciamo notare e vedere vale purché il sistema sia aviamente adiabatico adesso se ci ricordiamo se torniamo indietro nei precedenti capitoli di questo lungo corso di fisica e ci ricordiamo la definizione di energia potenziale nel caso in cui siamo in presenza di forze conservative vi ricordate che possiamo scrivere come il lavoro totale L totale ve lo ricordate è pari proprio a meno la variazione di energia potenziale no? che possiamo scrivere come evidentemente meno energia potenziale finale quindi possiamo scrivere meno U U2 se volete con il termine 2 indichiamo alla fine meno U1 all'inizio ma possiamo anche scriverlo come U1 U iniziale meno U finale U evidentemente l'abbiamo detto energia potenziale che ha le dimensioni di un'energia e quindi dipenderà anche lei solamente dallo stato del sistema cioè dalle sue possiamo dire coordinate termodinamiche ora se il sistema fornisce lavoro verso l'esterno è chiaro che il lavoro sarà da considerarsi positivo e quindi in questo caso visto che L è pari a U iniziale meno U finale pari a meno delta U l'energia potenziale l'energia U chiaramente diminuirà se invece viene fatto lavoro viene compiuto lavoro dall'esterno verso il sistema in quel caso evidentemente sarà L a essere negativo e l'energia potenziale U evidentemente aumenterà attenzione quindi che poi ne parleremo di questa convenzione sui segni degli scambi di energia ma quindi Joule osservò che l'innalzamento di temperatura di una massa d'acqua è facile ottenerlo semplicemente mettendo l'acqua a contatto con un corpo a temperatura superiore supponiamo adesso di avere il corpo e l'acqua l'abbiamo detto all'interno di un contenitore adiabatico quindi dove non ci sia altro scambio di calore ci sarà uno scambio di calore tra essi senza alcuna azione meccanica di tipo macroscopica cioè senza la presenza del lavoro quindi si può ottenere lo stesso cambiamento dello stato termodinamico dell'acqua segnalato ravvisato dalla stessa variazione di temperatura tramite lo scambio di calore in assenza di lavoro e quindi visto che noi abbiamo detto che L è pari a meno delta U in questo caso da quella relazione potremmo anche scrivere che il calore Q sarà pari evidentemente proprio a questa delta U avendo evidentemente considerato positivo il calore quando esso viene fornito verso il sistema dall'esterno e pertanto nella sua esperienza Joule osservò che se il calore Q non è altro che il calore scambiato in assenza di lavoro esterno in modo da far variare la temperatura delta T della massa d'acqua e L rappresenta invece il lavoro che va speso che deve essere speso in assenza di calore quindi in condizioni adiabatiche per ottenere la medesima variazione di temperatura possiamo allora scrivere che si ricava facilmente l'equivalente meccanico cioè si può scrivere si può allora scrivere proprio l'equivalente tra lavoro speso e quantità di calore prodotta in una trasformazione ciclica cioè si può arrivare alla seguente relazione se Q l'abbiamo detto è pari a delta U questa è pari anche evidentemente a meno L ovvero da cui ricaviamo che Q allora per transitività sarà evidentemente pari a meno L segno meno che dipende dalla convenzione che sia adottata per i segni degli scambi di energia questa relazione questa relazione è la relazione proprio che esprime l'equivalenza tra calore e lavoro e si indica anche come si possa eseguire una misura del calore scambiato il calore in questo caso Q lo esprimiamo ovviamente in Joule e quindi si può affermare che esiste un meccanismo di scambio di energia che non comporta dei movimenti macroscopici e che chiamiamo proprio con scambio di calore e quindi questo risultato che ho incorniciato oggi chiaramente per noi è scontato una cosa abbastanza banale palese ma prima dell'esperienza di Joule prima dell'arrivo di Joule queste due grandezze Q e L calore e lavoro erano considerate grandezze fisiche di natura completamente differente ed erano misurate ovviamente con unità di misura differenti in realtà gli esperimenti queste 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 diciamo queste prove fatte da Joule andarono a dimostrare che a parità di variazione della temperatura della nostra massa d'acqua il lavoro esterno che noi andiamo a misurare in Joule e il calore scambiato che si misura in calorie sono sempre in rapporto costante cioè noi possiamo scrivere evidentemente che L è pari a meno JQ dove J con J che sarà J indichiamo Joule evidentemente è il cosiddetto equivalente meccanico della caloria indipendente dal tipo di trasformazione descritta dal sistema e se noi andiamo a misurare ripeto L lo misuriamo in Joule e Q in calorie o in chilocalorie allora possiamo dire che ho il valore proprio di 4186 virgola 8 Joule fratto calorie o chilocalorie è la stessa cosa evidentemente in questo caso chiaramente e qui ovviamente arriviamo al fatto che una chilocalorie è 4186 Joule oppure una una caloria sarà 4,186 Joule una volta che il buon Joule è riuscito a dimostrare questo adesso poi possiamo tornare alla legge fondamentale della termologia che abbiamo scritto nel precedente video vi ricordo che avevamo scritto che il calore Q era pari a M C delta T ora che Joule ha dimostrato questo possiamo dire che visto che c'è proporzionalità sostanzialmente tra calore e lavoro possiamo al posto di Q sostituire un simbolo possiamo indicare ad esempio il simbolo di energia di variazione delta E di energia che rappresenta sostanzialmente l'energia scambiata con come unità di misura avrà sempre Joule e allora scriveremo che quindi possiamo anche scrivere che anziché scrivere Q potremmo anche scrivere che delta E quantità di energia scambiata è pari proprio a M per C T2 meno T1 delta T e a questo punto come misureremo il calore specifico il calore specifico no che abbiamo indicato con la lettera C C piccolo avrà l'abbiamo detto e lo ripetiamo come unità di misura C evidentemente è delta E fratto M delta T sarà sempre evidentemente in questo caso o kilocalorie diviso chilogrammi Kelvin o anche Joule diviso chilogrammi per gradi Kelvin ora se andiamo a riprendere la formula del calore specifico no ovvero questa qui questa che sto incorniciando delta E pari a M C delta T l'abbiamo già detto l'abbiamo già introdotto e lo ripetiamo l'abbiamo già detto nel precedente video abbiamo parlato di capacità termica che tiene conto dei fattori del calore specifico e della massa in questo caso bene si definisce ripeto capacità termica e la indichiamo con la lettera C grande C grande il prodotto della massa per il calore specifico e quindi essendo la massa espressa in chili e ripeto essendo il calore specifico espresso in quindi abbiamo un chili per Joule diviso chilogrammi per Kelvin chili e chili se ne vanno e vedete come la capacità termica avrà come unità di misura il Joule fratto il Kelvin ma l'abbiamo anche indicata nel precedente video come kilocalorie su Kelvin da un punto di vista fisico la capacità termica C e il calore specifico sono due cose differenti quindi C grande e C piccolo sono differenti per il fatto che se noi moltiplichiamo il calore specifico per la massa M viene fuori un'unità di misura che è un Joule su Kelvin e che rappresenta il rapporto tra la variazione delta E di energia e la variazione delta T di temperatura ossia quanta energia io devo fornire per aumentare la temperatura di quel determinato corpo quindi attenzione che la capacità termica C grande non è da assimilare non è la stessa cosa del calore specifico C piccolo non perdetevi il prossimo video nel quale parleremo di ancora calorimetria e poi dopodiché continueremo con i vari tipi di trasmissione di calore ciao a tutti